perchè no? allora allora perchè sto senza presa il variore è giusto poi sporcavi no? ma perchè tutte le mutandine è celeste non ce l'ha bionda celestina e su celorun non ce l'ha bionda aspetta allora ce l'ha bionda aspetta vedete volo dire quando si è sombriaco a me mi sembrava di vedere c'è la scobaleno tutti i colori dove tu viola ha detto basta che ci faccio a questa vaffa ma ci sono fatto però ma dove hai detto che le hai già fatto? nooo è la prima però dici allora ti spiego ok il prezzo è giusto 100 100 quando facevano 100 100 mille 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 no così no 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 oh attenta senti ma chi di gatto? allora quale ti piaceva delle tre? Sheila? poi come si chiamavano? ehm Tati Tati e l'altra? come si chiamavano chi di gatto? Sheila, Tati e voi Francesca allora a me mi piaceva Tati Tati è piccola eh crescerà caccia patricio a scherzo no no allora beh si a me andiamo a chiamavano no che succede adesso? eh? dicevi? dicevo che? oh che era pure il mio singolo non importa eh è il singolo aspetta non importa se la vita sarà breve questo allora no ragazzi prendisi prendisi non importa se la vita sarà breve vogliamo godere no ragazzi no ragazzi prendisi prometto sarà giusto lavorare il prindisi prima di tutto la vita breve sarà la tua ahahah ahahah molto Twin Peaks ahahah ahahah ma che cazzo dico quello di quell'altro vabbè ahahah 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 comunque se siamo capiti ahahah 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 ahong